Cari amici e soprattutto carissimi amiche, eccolo di nuovo qui, il mitico, fantastico, più unico che raro, Jim Maddy in Italy, sto scrivendo nuove poesie erotiche piccanti, porno per voi donzelle, fanciulle, milf donne con la D maiuscola, dai, queste poesie tutte per voi, eh, e poi insieme appassionatamente andremo a gonfie vele, Jim come on, come on, come on, come on, come on baby, come on baby, come on baby, dai, risvegliamo il nostro airs più profondo, eh, a tutto tondo, andremo fino in fondo per le vie di questo bel mondo, sì, saremo un incendio mai visto infinitamente incandescente, allora, alla prossima con Jim Maddy in Italy, muah, che bonazze, a profusione, bellezze, celestia, veri, probide. Ciao! 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 Ciao!